Sembra che sia già stata abbordata. Sì, 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 sì. Oh, tutto questo cibo andrà sprecato. Hanno totalmente ignorato il carico. Cercavano informazioni, non denaro. Frammenti di reliquie. Hanno torturato i marinai. Volevano informazioni. C'è molto sangue. Qualcuno ha trascinato un corpo fino al limitare del ponte. Ma dov'è finito? In acqua. Che sia un diversivo. C'è stato uno scontro. Ma qualcuno ha gettato un corpo in acqua per creare un diversivo. C'è molto sangue. Qualcuno ha trascinato un corpo fino al limitare del ponte. C'è molto sangue. C'è molto sangue. Grazie a tutti Grazie a tutti Quel bastardo è scappato con il mio cavallo Qualcuno ti ha rubato il cavallo? Veniva dalla nave? Sì, un demone dai capelli rossi È uscito dal fiume come una lontra Ha rubato Cadimede ed è scappato verso il villaggio dei trafficanti E i tuoi abiti? Un uomo non può più farsi una nuotata rinfrescante senza che ladri e vagabondi ne approfittino Che cosa dovrei fare adesso? Ah, chiedi a Sobek di restituirti le vesti Questi selvaggi portano solo guai Ora uccidono i mercanti innocenti